Bene, grazie. Allora vado subito al sodo, condividendo il mio schermo, che spero vediate. Eccoci qua. Questo argomento non è del tutto nuovo, nel senso che ne ho parlato l'anno scorso a Stoccolmia, però in una delle due sessioni, quella in cui parlai esattamente dello stesso argomento, fu in realtà abbastanza partecipata, ma con nessun italiano presente. Quindi sono abbastanza tranquillo che nessuno di voi sente esattamente le stesse cose che ho detto altre volte. Ovviamente in parte le avrete già, diciamo, magari ascoltate in altre chiacchierate su alcuni elementi di quello che racconterò. Come sfruttare pienamente la storia postale nello sviluppo di una collezione tematica? Quando io ho iniziato a occuparmi di filatelia espositiva, e quindi ho cominciato dalla tematica, i due mondi, vi parlo ormai di una vita fa, vi parlo della metà degli anni Ottanta, i due mondi erano sostanzialmente separati. C'erano alcune eccezioni. C'erano alcuni collezionisti che in maniera pionieristica, anche in ragione dell'argomento trattato, avevano cominciato ad utilizzare in maniera sostenuta materiale storico-postale, anche perché erano spesso collezionisti che magari da lì venivano. Penso a Luciano Previato, a Nio Giunchi, per farvi degli esempi, grandi collezionisti di posta militare, o a Carlo Cerutti. Che è rimasto l'unico italiano a vincere medaglie d'oro internazionali in storia postale tradizionale filatelia tematica. Però rimaneva un po' una cosa limitata da alcuni temi, appunto chi collezionava la storia, soprattutto la storia dei periodi bellici, ed era visto come, diciamo, una cosa un po' esclusiva a questo tipo di collezioni. Io invece ritengo che la filatelia sia una soltanto e che nella tematica, soprattutto, tutti gli elementi della filatelia possono trovare posto. Naturalmente, diciamo, con una qualche attenzione a non, diciamo, a valorizzarne sia gli aspetti postali che tematici. Ovviamente vi parlerò principalmente della mia collezione sulle ferrovie africane, che è quella che meglio conosco e qui vi posso meglio farvi degli esempi. Vi dirò veramente una parola su questa collezione. Ho cercato di ridurre al massimo la trattazione teorica, cioè a volte queste presentazioni che hanno a che fare un po' con come fare le collezioni hanno una componente importante di, diciamo, una parte importante di slide che raccontano i regolamenti, come interpretarli, eccetera. Invece cercherò soprattutto di fare una carrellata di documenti, perché poi noi siamo collezionisti e alla fine ci piace vedere i pezzi, ci piace vedere i pezzi anche di cose che non collezioniamo. Come tutte le collezioni, naturalmente, quando parliamo in questo caso di storia postale, ci sono delle aree più interessanti. Quindi la terza parte, la più importante, conterrà questa carrellata. Adesso non entro nel merito dei sotto-argomenti, perché tanto li vedremo più avanti. La mia collezione è una collezione che ha uno sviluppo di carattere storico, cioè racconta le vicende dello sviluppo della rete ferroviaria africana che io chiamo rete incompiuta, perché in realtà è una rete che tuttora non costituisce una griglia di collegamento completa tra gli stati africani, a differenza, ad esempio, della rete europea. Si tratta in realtà di singole linee, per lo più dal mare verso l'interno, nate e sviluppate indipendentemente. Soltanto nel Nord Africa e in Sud Africa c'è qualche cosa di simile a quella che noi chiameremmo una rete. Questa storia si sviluppa in questi capitoli che vedete qui, in cui si intrecciano la vicenda storica da un lato e le caratteristiche specifiche delle ferrovie in Africa dall'altro, con un'attenzione a non trascurare, quindi a rimanere, con una copertura abbastanza esoriente di tutti i periodi storici. Torneremo poi su questo schema, che è poi il piano della mia collezione alla fine, perché una cosa importante quando uno immagina nell'equilibrio della propria collezione di usare un certo tipo di materiale e di poterlo usare un po' dappertutto. Quindi non soltanto, magari dove è naturale. Vedete che c'è un capitolo, per esempio, sull'importanza delle ferrovie africane nei conflitti. E' chiaro che in tempo di guerra, non è un mistero per chi si occupa di storia militare che tra noi non l'ho visto collegato, ma è un po' quello che ha ispirato una certa modalità di ampliare, di selezionare il materiale guardando in modo ampio a tutto quello che è un oggetto postale. E quindi il primo approccio, che direi non è di regolamento, è proprio di buon senso, e che in una collezione tematica io devo poter valutare il possibile utilizzo, poi dipende se ovviamente hanno un significato tematico, ma il possibile utilizzo di tutti gli elementi postali, quelli del servizio corrispondenza e pacchi, in tutte le sue componenti, che vedremo poi più in dettaglio in una slide dopo, i vi compreso quando questo servizio è stato utilizzato per fare pubblicità, ma anche tutti i vettori della posta, la posta aera, la posta marittima, quella ferroviaria e altri vettori terrestri, il servizio telegrafico, che anch'esso concorre alle comunicazioni, e naturalmente il servizio di posta militare e i servizi di censura della posta nei periodi critici della storia in cui questo è stato necessario. Tutti questi elementi, non tutti, sempre in tutte le collezioni ovviamente, ma tutti questi elementi vanno presi in considerazione quando uno sviluppa una collezione tematica. E di uno singolo oggetto postale, quindi, io posso utilizzare, perché ha un valore storico postale che potrebbe essere anche di valenza tematica, quello che riguarda l'oggetto in sé, quindi la sua francatura e tariffa, a volte l'indicazione del mittente quando questo goda di particolari privilegi come tariffe ridotte, il suo instradamento che mi indica magari il mezzo di trasporto utilizzato, particolari itinerari, il tipo di oggetto, quindi se si tratta di, in alcuni casi si sono degli oggetti particolari, pensate per esempio ai cosiddetti fonopost, cioè gli oggetti che consentivano la spedizione di messaggi incisi su disco, utilizzati molto dagli emigrati italiani e non solo italiani per le spedizioni dall'Argentina all'Europa, ma utilizzati da molti altri paesi. Quello può entrare chiaramente in una collezione, diciamo che ha a che fare con la discografia, ma una collezione sull'emigrazione, una collezione anche sulla storia di questi paesi. Quindi anche il tipo di servizio e il vettore naturalmente, perché a volte la posta, a volte un vettore di posta locale, o a volte di questo oggetto anche la ricevuta, su cui possono magari trovarsi delle bollature particolari, o le caratteristiche del destinatario, che a lui stesso può essere un soggetto che goda di particolari privilegi postali. Naturalmente ci può essere il caso in cui invece che andare direttamente al destinatario ha avuto degli eventi particolari, ad esempio incidenti, posta interrotta, ne parleremo proprio nel trasporto ferroviario, oppure è tornata al mittente per qualche ragione. Per esempio ricordate le poste non consegnate per eventi bellici. Tutti questi aspetti del servizio postale possono essere identificabili nella corrispondenza e in alcuni casi possono essere di rilievo anche per la tematica. Come utilizzare i pezzi di natura storico-postale? Oltre a selezionarli bene, bisogna capire bene qual è il significato storico-postale del pezzo. Quindi io non posso limitarmi a semplicemente intuirne la natura. Devo sapere esattamente di che oggetto si tratta. Devo collegare il pezzo alla sezione tematica appropriata della collezione, questo poi tornerò alla fine, non ci passo troppo tempo ora, e devo massimizzare il valore filatelico, cioè devo identificare e cercare oggetti anche particolari che mi aiutino a valorizzare anche il peso filatelico della collezione. Ma non devo perdere mai la connessione tematica, cioè non devo forzare l'inserimento di alcuni pezzi piuttosto che di altri soltanto perché hanno un pregio postale. Devono essere collegati al mio sviluppo tematico. Questa teoria ovviamente la vediamo poi applicata adesso nei vari casi. Cosa serve per affrontare questo cabino? Ovviamente il mio suggerimento, poi ognuno è libero poi di utilizzare anche altre modalità come la consulenza di amici ed esperti che è anche molto utile. In una collezione come la mia, dove questo materiale acquista un peso importante, anche come frequenza di utilizzo, sono essenziali a mio avviso sia una biblioteca specializzata, qui vi ho detto una sezione della mia, sia l'appartenenza d'associazione di settore. Queste sono di grande aiuto per identificare, trovare, classificare e anche descrivere correttamente nei fori della collezione il materiale pertinente. A volte uno non lo sa neanche che esiste e quindi non lo cerca il materiale, se non dispone di buone referenze bibliografiche e magari se non aderisce a qualche associazione specializzata che attraverso la sua rivista gli consente di acquisire questa informazione. Poi ogni caso è a sé stante, è chiaro che nel caso mio io sono socio di diverse associazioni che si occupano diciamo di filatelia africana, alcune le vedete indicate qua, perché non sono informazioni quelle che io cerco che si trovano tutte soltanto in testi pubblicati a grande diffusione. E adesso, dopo questa introduzione, diciamo così, di approccio, vorrei raccontarvi attraverso i pezzi che cosa si può inserire. Come dicevo, penso che sia più interessante raccontarlo con esempi che non in linea teorica, con delle lunghe liste. Quindi questa non è una lista esaustiva di tutto il materiale che ha un prevalente valore storico-postale, che però può trovare posto in una tematica. E la lista pertinente alla mia collezione. Ciascuno di voi, se siete collezionisti tematici o se pensate magari vi viene voglia di impostarla, dovrà poi valutare per il suo tema che cosa è rilevante. Nel mio caso sono sostanzialmente cinque i gruppi principali di, diciamo, di pezzi che hanno una rilevanza. Innanzitutto il rapporto tra ferrovie e trasporto della posta. In Africa particolarmente importante, ve lo dirò poi meglio dopo, a volte ragione stessa della costruzione di queste linee, perché proprio senza il vettore ferroviario raggiungere gli europei colonizzatori che man mano penetravano all'interno richiedeva molte giornate o settimane di viaggio. E questo è testimoniato da ambulanti e messaggeri. In alcuni paesi africani abbiamo dei casi particolari, cioè di ambulanti speciali istituiti in particolari occasioni. Il servizio di trasporto diretto della corrispondenza, quindi non affidato all'ambulante postale ma gestito direttamente dalle ferrovie. Il railway letter service che era, diciamo, nato in Inghilterra ma si è diffuso anche in Sudafrica, in assenza di un regime di monopolio totale. Il trasporto di pacchi e giornali, che ha dato vita anche a elementi postali specifici in una serie di paesi, sia del nord che del centro che del Sudafrica. E poi altri aspetti, come gli incidenti ferroviari e la posta con transito interrotto, proprio mentre la sulle ferrovie. Questi pezzi sicuramente di grande interesse e anche fascino. Ma anche uffici di agenzie postali presso stazioni ferroviarie o addirittura di località che sono sorte, nate, hanno avuto un insediamento proprio a causa delle ferrovie. Naturalmente le franchigie postali e la corrispondenza ufficiale delle aziende ferroviarie e infine tutti gli aspetti di posta militare a cui accennavo prima. Andiamo adesso a vederli uno per uno. Allora, come vi dicevo, il trasporto della posta. Il trasporto è stata una delle funzioni chiave delle ferrovie in Africa. Di solito gli agenti viaggiavano in vagoni speciali, come quello che vedete qui, oppure in scompartimenti in normali carrozze. In Africa beridionale, in Sudafrica, in Rhodesia, nelle colonne protettorati più piccole della corona britannica, in quell'area, furono anche organizzati degli ambulanti speciali, ne vedremo un paio, per accompagnare particolari treni che trasportavano delle autorità o gruppi particolari di persone. E infine, come accennavo, il trasporto di giornali e pacchi o anche la gestione diretta del servizio da parte delle ferrovie. Ecco uno dei primi esempi di TPO, come dicono gli inglesi, traveling post office. Ho lasciato le descrizioni dei pezzi in inglese perché così sono nella mia collezione attuale ed erano nella presentazione originale. Questo agevola anche magari la lettura degli amici che sono molti amici stranieri stasera con noi e che magari masticano meno l'italiano. In Algeria il servizio sui treni iniziò con la stessa struttura di quello che era in vigore in Francia. Cioè sulle linee meno importanti, e per l'Algeria voleva dire sostanzialmente per tutte le linee, c'era un servizio di messaggeria, i cosiddetti convoyers. All'inizio usavano dei bolli ondulati, i cosiddetti convoyers stations, perché ricavano in alto il nome della stazione in cui era stata raccolta la lettera, in basso ovviamente il nome del paese. Qui al centro l'indicazione della linea, in questo caso la linea Bl-Alge e la linea Blida-Algeri. Siamo nel 1872, ma la data non è ricavabile dal bollo che non è datario, come vedete, ma dall'interno della corrispondenza da bolli d'arrivo. Il sistema ovviamente non era molto pratico perché bisognava cambiare data bollo annullatore ad ogni stazione e quindi fu rapidamente rimpiazzato da un altro tipo di annullo ondulato con l'indicazione della linea e la data al centro. Però all'inizio utilizzavano questi e questo è un esempio classico di messaggeria postale africano. Qui ne vediamo un altro di un altro territorio. Siamo nell'oasi del Fayum, nel centro dell'Egitto, un'oasi, una delle poche aree molto fertili dal punto di vista agricolo, in cui si sviluppò una linea, una rete di linea a scartamento ridotto. Una cosa interessante di questa lettera, che non è l'unica che possiede con questa caratteristica, è che è una raccomandata. In Europa e anche in Italia, gli ambulanti veri e propri accettavano raccomandate, ma si tratta di casi eccezionali e molto rari, i messaggeri non potevano accettare corrispondenza raccomandata. In Africa, poiché queste linee raggiungevano località che erano spesse prive di altri tipi di uffici postali, invece durante le soste era generalmente possibile che accettassero raccomandate, come in questo caso, particolarmente interessante perché si tratta di una linea abbastanza, diciamo, a scarso traffico e venne accettata questa raccomandata appunto della linea tra El Fayum e Kalamsha. E poi gli ambulanti cosiddetti speciali. Ce ne sono diversi, ovviamente gli specialisti che sono collegati come Yannick lo sanno, per esempio nel treno reale che portò il principe di Galles, futuro Edoardo VIII, a visitare il Sudafrica dall'aprile a luglio del 25, il treno speciale era preceduto da un treno pilota su cui si trovavano alcune funzioni a supporto del viaggio del re, tra cui un ambulante postale che spedì, dicono i report ufficiali, circa 9.000 lettere in totale. Questa è una lettera ovviamente, diciamo, con una francatura che probabilmente è stata predisposta da qualcuno che come noi amavi Franco Bolli, con l'annullo speciale utilizzato proprio nel Royal Tour, da questo servizio postale ambulante che accompagnava nel treno pilota il viaggio del re. Ma non è l'unico caso. Un caso un po' particolare, per esempio sempre in Sudafrica, fu nel 1941 quello del Royal Train, scusate, del World Train, il treno della guerra, che si occupava di viaggiare nel paese per promuovere il reclutamento nell'esercito. E qui esistono lettere del personale, era accompagnato da un ufficio postale viaggiante, la corrispondenza è prevalentemente, diciamo, in questo caso spedita da personale militare, infatti viaggia in franchigia e denota sia col testo in African, questa che vedete, Orlog Train, sia col testo Orlog Train, sia col testo in inglese World Train. Quindi l'ufficio postale a bordo di questo treno aveva due bolli datari nelle due lingue ufficiali del paese. Vedete, in questo caso si legge dal bollo di franchigia, che appunto è un battaglione del corpo dei ferrovieri del paese. Un altro tipo di servizio di trasporto di lettere di corrispondenza a bordo dei treni, come vi diceva la Leroy Letter Post del Sudafrica, dove in Sudafrica, come in Inghilterra, le compagnie potevano anche accettare direttamente delle corrispondenze che avevano particolare urgenza. In questo caso era necessario aggiungere nella francatura, che doveva comunque coprire la parte, la francatura postale normale di due penni, altri due penni per le ferrovie. Su queste lettere, quando venivano accettate, veniva posto il bollo ovale della stazione, questo che vedete, intravedete qua, SAR e vuol dire proprio South African Railways, Abloy and Fontaine, quello che era stato lo stato libero dell'Orange, e altri due penni appunto per le compagnie. E poi avevano questa etichetta di accettazione che indicava non soltanto la data di accettazione, ma anche il treno su cui sarebbe partita. Una volta arrivata nella stazione di destino, se non ritirata, veniva distribuita col servizio postale normale, e qui vedete l'annulo di arrivo a Darban. Anche i pacchi furono trasportati spesso dalle ferrovie, dando origine anche a situazioni interessanti. Per esempio qui, adesso facciamo, ci spostiamo un po' ad ovest, siamo nella attuale Namibia, ex Africa sud-occidentale tedesca. Qui abbiamo un esempio di bollettino pacchi. In Germania, scusate, nella colonia tedesca dell'Africa sud-occidentale, vigeva un sistema per cui c'erano due tariffe per i pacchi, ed erano più basse per i pacchi che partivano da località lungo la linea ferroviaria. Quando si trattava invece di fare partire il pacco da una località che non era sulla linea ferroviaria, la tariffa era più elevata perché ovviamente far viaggiare i pacchi all'epoca, tra la stazione e la località di destino, con dei portatori, aveva un costo rilevante. Questo è un pacco di tre chili che parte da Hauss, appunto, nella attuale Namibia e va a Ludwigsburg in Germania. Si tratta, è affrancato per due marchi e 50, proprio perché la tariffa Hauss era sulla linea ferroviaria e quindi la tariffa era quella ridotta. Se fosse partito da altre località non sulla ferrovia avrebbe pagato tre marchi. E anche i giornali. Qui è una fascetta per giornali di un giornale del Mozambico, bilingue, le notizie di Beira, notizie da Beira o The Beira News, che va a Untali, località al confine tra la Rhodesia del sud e il Mozambico, ma già in Rhodesia, vedete che ha la francatura in tariffa del Mozambico completata dalla sovratassa di un penny per le ferrovie rodesiane che deda l'oggetto a emissioni particolari proprio per coprire e assicurare la francatura, copertura di quanto loro dovuto. E questa tariffa, come si trova nella tariffa, indipendentemente dalla distanza, era sempre di un penny e poi sulla fascetta c'è anche l'annulo di arrivo proprio di Untali. E con questo chiudiamo il primo capitolo, che è quello più corposo, che è quello delle ferrovie che trasportano la posta. Il tempo corre e passo subito agli incidenti ferroviari. Ovviamente numerosi in Africa, data la natura leggera e provvisoria di molte linee. La posta recuperata da questi incidenti è una testimonianza stessa dello stato delle linee, quindi è molto utile nella collezione per parlare di questo argomento. Ancora qui Yannick lo saluto e lo richiamo perché conosce molto molto bene questo aspetto. Vi farò vedere soltanto qualche esempio. Uno dei casi più tipici di incidenti sulle ferrovie erano il fatto che venivano trasportati materiali infiammabili e poiché molti vagoni erano fatti di legno, questi incidenti potevano essere particolarmente gravosi. Qui è una corrispondenza che viaggiava sul treno che portava la posta dall'Europa, vedete che è una francatura britannica e a Crudefontein 197 sacchi di posta fuono distrutti o danneggiati dal fuoco. E questo è il bollo in cartella che in bilingue dice danneggiata dal fuoco, specificando appunto la ragione. Di questa lettera se ne conosce qualcuna in più, più rara sicuramente è questo esempio sempre di un incendio sul treno, Caballo-Arbelville, qui siamo in Congo-Belga nel 1925, siamo su una tratta che era operata dalla Compagnie de Chemin de Fer du Congo Supérieur e che era una lacca africaine, anche qua l'evento simile al precedente. Testimoniato da questo bollo si tratta di una lettera assolutamente molto molto rara. Ma la posta interna non veniva interrotta soltanto dagli incidenti, veniva interrotta anche da eventi particolari come per esempio quelli bellici. Qui è una corrispondenza pesantemente danneggiata perché si trovava inclusa, come vedete dal bollo, in un sacco postale perduto sulla ferrovia del Capo. La Cape Railway era una delle società ferroviarie, quella che partiva da Città del Capo e andava verso nord, è recuperata il 25 luglio del 1901. Era il periodo in cui c'era la guerra in Globoera, i boeri spesso facevano dei ride, sottraevano delle cose lungo la ferrovia, dei vagoni fermi o addirittura fermavano i treni e poi dopo qualche tempo gettavano via quello che non era di valore e che veniva recuperato. Ci sono anche altri esempi che ho fatto vedere in precedenti presentazioni. Vado rapidamente sugli ultimi temi. Uffici e agenzie postali presso stazioni ferroviarie o città create proprio dalle ferrovie. Qui vedete un esempio di una convenzione postale del Senegal che esplicita come fosse obbligo, e spesso era il caso, della società ferroviaria mettere a disposizione degli spazi per l'amministrazione postale nelle stazioni. Non è strano quindi che spesso le stazioni furono luoghi dove si trovava un ufficio postale. ma non è solo questo appunto l'elemento rilevante, ci sono delle località che sono proprio nate per effetto della ferrovia. Tutte cose interessanti e documentabili. Devo andare un po' più rapidamente. Poste europee in Egitto, poi magari ci torniamo se ci sono domande, si sviluppò grazie alla creazione delle prime linee ferroviarie e quindi ottenne l'opportunità in alcuni casi, come nella stazione di Zagasik, tante Caer Zayat, proprio di aprire delle proprie agenzie man mano che la rete ferroviaria veniva aperta presso queste stazioni. Quindi quando leggiamo i boli di alcune località della posta europea, che sapete che era una posta gestita da management, diciamo così, italiano durante il periodo, appunto, prima del protettorato britannico, queste agenzie si trovavano proprio presso stazioni ferroviarie. Ma anche agenzie postali, il cui nome stesso ci ricorda dove si trovavano. Questo siamo sulla linea Congo-Sean, una linea quindi del Congo francese, in questo caso, che aveva una stazione chiamata Kilometro 102, Point Kilometrique Saint-Denis, proprio a ricordare già dal nome che era una località che si trovava lungo la ferrovia, qui lo vediamo su una raccomandata nel 1936. Telegrafi ferroviari che venivano, lo sviluppo del telegrafo, creava agenzie, era molto legato, strettamente legato alle ferrovie, venivano realizzate delle agenzie a questo scopo, perché accettavano, venivano abilitate all'accettazione dei telegrammi anche da parte di civili e spesso anche di corrispondenza per rendere più densa la rete del servizio. Qui siamo a Westminster, di nuovo nello stato libero dell'Orange, vedete il bollo molto nitido Railway Telegraf di Westminster, questa agenzia telegrafica ferroviaria era nota in letteratura, ma nella letteratura rilevante non viene presentato nessun bollo, questo finalmente dà la possibilità di farlo vedere ed è anche di una nitidezza eccezionale. A volte le località evocavano le difficoltà costruttive, escarpment nel Kenya ricorda proprio la scarpata del rift che deve essere attraversata da qualunque ferrovie che attraversino il continente dall'Oceano Indiano verso l'interno, sapete che la Grande Rift Valley attraversa dal nord al sud quella parte dell'Africa, siccome fu necessario creare un cantiere che dura lungo e poi divenne un insediamento, questo insediamento e il suo ufficio postale mantennero il nome di escarpment. E ancora un'altra località su cui non spendo troppo tempo, invece qui siamo nella linea tra Sudafrica e Mozambico, anche qui nata e cresciuta come luogo di insediamento principale dei ferrovieri che operavano quella linea, anche qui un annullo elencato in letteratura ma non noto come obliterazione che poi è emerso per il piacere mio di averlo in collezione. Abbastanza banale invece il tema delle franchigie, delle corrispondenze ufficiali delle ferrovie, questo ne è un esempio, si tratta delle ferrovie centrali del Sudafrica che nacquero unificando le ferrovie delle diverse colonie e territori, prima boeri o inglesi dopo l'unificazione. In realtà, come vediamo poi in una serie successiva, all'inizio le compagnie ferroviarie del Sudafrica avevano il diritto di spedire in franchigia utilizzando della corrispondenza che lo indicava chiaramente, come vedete qui, con bolli di franchigia che specificavano che si tratta di corrispondenza ufficiale. Successivamente, invece, si cambiò sistema, dovevano essere affrancate a tutti gli effetti, a scopo anche contabile, venivano utilizzati dei francobolli opportunamente perforati con le iniziali della linea ferroviaria, oppure sovrastampati, oppure con dei taglietti astensi da formare le iniziali. Argomento su cui ci sarebbe da parlare una serata, ma ovviamente devo andare a chiudere. Con la posta militare, i militari furono molto coinvolti nelle ferrovie africane per proteggere le ferrovie contro gli attacchi delle tribù indigene, per costruire le linee molto spesso, a volte anche per controllare le operazioni ferroviarie in casi particolari. E quindi tutto questo si ritrova anche nella loro corrispondenza. Qui, per esempio, vediamo il servizio telegrafico delle Imperial Military Railways. Durante la guerra angloboera, l'esercito della parte britannica ha preso il controllo del sistema ferroviario, continuò a gestire il telegrafo ferroviario, che era aperto anche ai civili. Voi vedete che questa è una corrispondenza che va da padre Forrest a un reverendo, quindi una corrispondenza tra due religiosi, sul modulo delle ferrovie, appunto, scritto sul modulo delle ferrovie militari e con il bollo Hermite Telegraphs, che era tipico utilizzato dalle unità telegrafiche militari in tutto l'impero britannico. Qui siamo nel 1902. Questa è un'agenzia postale sulla ferrovia militare sua comune, Windhoek, che fu costruita dai militari utilizzando tipiche, diciamo, attrezzature per ferrovie militari con scartamento 600 mm e quindi veniva classificata Feldbahn, cioè ferrovia di campagna. Anche qui siamo in un caso in cui si sposa anche il tema delle, diciamo, delle agenzie postali, in questo caso, presso una ferrovia nata con caratteristiche militari. Addirittura ambulanti ferroviari in tempo di guerra gestiti dalla posta militare per non consentire l'identificazione del luogo di partenza, invece che indicare gli estremi della linea come avviene normalmente negli ambulanti postali, vedete che è scritto Z&W, cioè sono due lettere fittizie che in questo caso indicano, si sa, diciamo, da altre fonti che indicano la linea Alexandria d'Aba, cioè che andava verso il confine occidentale, praticamente verso la Libia. Però se io ricevo questa corrispondenza, l'avevo tra le mani, non ero in grado, senza sapere la decodifica, di sapere a quale linea si trattasse. Siamo nel 1917, l'esercito britannico ha preso il controllo delle ferrovie egiziane e la posta militare gestisce anche i servizi di ambulante postale. In Egitto accade questo anche durante la rivolta contro gli inglesi del 1919, caratterizzata da moltissimi scioperi, anche qui non fu possibile mantenere i servizi ferroviari e postali proprio in ragione dell'agitazione dei lavoratori. I militari si fecero carico di una serie di sopperie, di una serie di servizi, tra cui anche quello del trasporto e della corrispondenza. Vedete Upper Egypt TPO 1, cioè Alto Egitto, ufficio postale ambulante numero 1. Questa addirittura è una raccomandata, è una corrispondenza ovviamente interessante, mandata a commercianti di sigarette al Cairo, utilizzando proprio questo servizio speciale durante lo sciopero. Mi scuso un po' per la velocità della carrellata, ma avevamo detto che volevamo stare nei tempi. Io vado a chiudere soltanto dicendo la cosa importante, molto importante, è cercare di guardare a questo tipo di materiale un po' in tutte le parti della collezione. Un po' poi non ci riesce proprio dappertutto, perché ci sono dei capitoli, magari quelli anche più moderni, che si prestano di meno. Io qui ho provato a farvi in questo schemino sintetico, che ovviamente non commento punto a punto, ma soltanto per farvi vedere che praticamente in tutti i capitoli che vanno dal 2 all'8, con tutti i capitoli centrali della narrazione, i diversi pezzi che avete visto hanno trovato posto in una collezione tematica. Quindi hanno supportato il racconto di questa storia affascinante, anche se non del tutto coronata da successo, e hanno quindi permesso a me di contribuire con il loro valore postale a raccontare gli aspetti tematici di cui volevo parlare. E ho finito e vi ringrazio. Complimenti, veramente. Grazie Paolo. Guarda, è proprio quello che tu hai detto adesso mi costa personalmente, perché hai fatto vedere questo bollo escarpment Kenya. Rift Valley, la mia collezione di geologia, un passaggio sulla Rift Valley, al momento è illustrato con un semplicissimo francobollino di TAF, non ricordo male. Chiaramente, una busta del genere che effettivamente è collegata direttamente con il tuo tema, viene collegata indirettamente col mio, ma ha un collegamento tematico strepitoso, per cui da questo momento in poi cercherò un annullo escarpment Kenya. Good luck! Ok, visto che Jarvis ha alzato la mano già da un po', per cui non so se forse aveva una domanda da fare, apro il microfono. No, devi farlo tu, Aniello. Avevo sbagliato a cliccare. Ah, ok. Ok, quindi se qualcuno ha qualche domanda... Guardavo anche se c'era qualcosa in chat. Ce l'ho io una domanda. volevo dire, Paolo, se sulla base della sua esperienza, anche da parte dei giudici, c'è in qualche modo una nuova sensibilità verso questo tipo di materiale. Allora, non ti nascondo che questa sensibilità esiste ma non è generalizzata. cioè, io mi sono sentito dire più di una volta guarda, se io guardo la tua collezione da lontano, mi sembra più una collezione di storia postale, no? Oppure un giurato a cui chiedevo come... siccome io sono arrivato a un certo livello di punteggio, diciamo, sono abbastanza vicino ad arrivare a quello che è il massimo che si può avere, diciamo, in un'esposizione internazionale, quando gli ho chiesto come faccio a fare questo scatto in più, mi è stato detto non aggiungere altro materiale di storia postale, no? Per cui esiste, diciamo, la difficoltà. Allora, io la sensibilità la si educa anche un po', no? Certo. Io, per esempio, sto, diciamo, man mano facendo queste presentazioni proprio anche per... a livello internazionale, proprio perché è l'occasione per spiegare un po' più nel dettaglio perché è così importante in una tematica, è così utile e così arricchente in una tematica utilizzarli. Quindi, giurati poi più giovani, invece quelli che sono... magari stanno facendo le loro collezioni oggi, come dico, spesso vengono loro stessi anche da un percorso in cui si hanno solo collezionisti sia di storia postale che di filatelia tematica, per loro è molto più semplice, insomma, accettare questo ragionamento. Ok, grazie. Anche se da storico postale mi viene da chiedere a questo punto l'idea dei giurati, diciamo, almeno la vecchia scuola sarebbe di vedere solo Franco Bolli, cartoline e annulli. Ma qui, devo dirti, è già da vent'anni almeno che il regolamento dice chiaramente che bisogna invece aprirsi a tutti gli altri tipi di oggetti. Quindi non è tanto un tema di dire si può usare o non si può usare. È un tema di dire mi dà veramente qualche cosa in più, soprattutto ovviamente in alcune collezioni. Poi questa è una che si presta magari più di altre. Quindi non è tanto soltanto una cosa mi autorizzi, ma adesso dico così, mi premi per il fatto che scelgo, identifico, analizzo e studio questo tipo di pezzi. Molte delle cose di cui vi ho parlato non sarebbero neanche documentabili con altro materiale. Non sarebbero raccontabili con altro materiale. Qualcuna sì, come quella che citava Marco, ma altre non sarebbero documentabili. Grazie. Non è necessario dire se ci sono domande in inglese dei nostri amici francesi, si può mettere in inglese, in spagnolo anche. Accettiamo tutto. Rosè, come ti ci vuoi? Per il paese? Per il paese anche. Oh, ora. Per il paese? Non, non in inglese, per il paese. Svizzetilic. Svizzetilic, sì. È un po' difficile. Svizzetilic. Passiamo l'italiano C'è anche Stefan Jürgens Sì, sì Qualcun altro? Qualcun'altra domanda? Posso farne una io? Ecco, tanti auguri Sì, Sergio Grazie L'abbiamo fatta apposta oggi I amici Mi scuso perché Ho perso i primi cinque minuti Per un problema non legato Ai festeggiamenti Come qualcuno ha marignato Ma un po' personale La mia domanda è questa Ovviamente la tua collezione O il tuo tema Si presta maggiormente Però io sono sempre Stato dell'idea Fin da quando ho cominciato a fare Le collezioni tematiche Che non ci doveva Limitare appunto Ma diciamo Il discorso Della storia postale Andava comunque inserito Quello che ovviamente mancava Era Diciamo Si lasciava comunque Il pezzo Descritto Solo dal punto di vista Tematico Perché ovviamente I tematici Non è che sono anche Degli storici postali E quindi Poi nel tempo Anche in base Al quaderno Che tu avevi fatto Quindi Abbiamo cercato Di arricchire La mia domanda è questa Quanto Nella didascalia Quindi nello scritto Che c'è al di sotto Del pezzo È necessario Inserire fino a che punto In una collezione tematica Che non è ovviamente Una collezione di storia postale Ma rimane pur sempre Una collezione tematica Cioè quali sono I Diciamo I Le 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 nozioni Quindi le informazioni Che vanno comunque messe E scritte Sotto il pezzo In collezione Che ovviamente Non c'entrano niente Con la Col passaggio Che stai facendo In quel momento Di tematica Ma che vanno comunque Che vanno comunque Inserite Diciamo per evitare Come suol dirsi Banalmente Quando è troppo stoppia Cioè Non Non far vedere Che insomma Uno Diciamo Come se qualcuno Vole essere a vedere Che ne capisce Più degli altri Di storia postale Ma dove ci si deve fermare E quanto va scritto E quanto invece Si può evitare Di scrivere del pezzo Secondo me ci sono Due casi Molto diversi E diciamo Invito ciascuno Poi di noi Con la propria collezione A mentalmente Immaginare Nel concreto Se io faccio vedere Una lettera Perché Affrancata Con dei francoboli Del mio tema Ma è una raccomandata Per via aerea Magari per gli Stati Uniti In quel caso Il messaggio Tematico Lo dà la francatura Lo dà i francoboli Che stanno sulla lettera Quindi io mi devo limitare Nella descrizione Del pezzo A spiegare Quello che non è evidente Quindi in questo caso Come mai hanno messo Un cento lire democratica Su quella lettera E quindi Devo spiegare la tariffa Perché la tariffa Non è evidente Come si compone Una tariffa Di una raccomandata Via aerea In quel periodo Ma non devo dire Che È affrancata Con cento lire democratica Perché questo È evidente Io lo vedo Guardando il pezzo Quello che vi ho fatto Vedere stasera Però Sono tutti casi diversi Quindi mentalmente Dovete situarvi In un'altra situazione Qui L'aspetto storico postale E coincide Con quello tematico Cioè Nel momento in cui Io dico Che Faccio vedere una lettera Che mi dice Semplicemente Questa posta È stata persa E ritrovata Il fatto che io Descriva correttamente Che cose È successo A quella lettera Cioè Che è stata Sottratta dai boeri E poi Restituita Ritrovata E danneggiata È il valore Storico postale Ma anche Il mio messaggio Tematico In questo tipo Di materiali Il rischio maggiore Non è Di esagerare La descrizione Storico postale Ma di sbagliare Quella tematica Perché Io non Approfondisco L'argomento A sufficienza Lo metto lì Come uno dei tanti Pezzi Relativi a post Interrotta Ferroviaria Invece no Conoscerne la storia Postale Mi permette Di utilizzarla Correttamente Dal punto di vista Tematico Quindi Quella descrizione Che racconta Il fatto storico Che ha Occasionato Il fatto postale Così come Lo sciopero Come mai C'è l'esercito Che gestisce Gli ambulanti In Egitto Nel 19 Quando la guerra È finita Perché c'è Uno sciopero Quindi Quell'evento Che è un evento Storico postale È il mio messaggio Tematico Quindi in quel caso La descrizione Deve essere Ragionevolmente Esaustiva Perché è quella Che supporta Il mio messaggio Tematico Non posso Dire soltanto Ambulante Gestito dall'esercito Devo dire Perché su quella Particolare linea In quel periodo Magari indicando Anche quando C'era stato Uno sciopero E quindi la linea Era stata recuperata Poi posso decidere Quanto di questo Mettere sotto il pezzo Come descrizione Puramente postale E quanto utilizzare Anche nel testo Tematico Ma La cosa interessante È proprio Che c'è una piena Coincidenza Dei due Elementi Che è un caso Un po' diverso Appunto Come ti dice O da quando Mi limito Ad eschievo Una tariffa Perché sto mettendo Una lettera Con una francatura Un po' complessa Ma lì a me Quello che interessa È poi il francobollo Magari c'è un multiplo Del francobollo Che mi interessa E voglio evidenziarlo Non so se sono stato Chiaro Sergio Sì 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 No no È chiarito Quello che Diciamo Quello che chiedevo Anche se ci fosse Comunque un minimo Di Un set minimo Di informazioni Che comunque Vanno inserite Cioè voglio dire Anche se in quel momento In quel passaggio La tariffa O in tradamento Della lettera Non c'entrano niente Ma se comunque Vanno scritte Cioè voglio dire Solo se servono Solo se servono Per capire Perché quel determinato Si è raggiunto Quel determinato Valore di affrancatura Se no ci si limita Se no ci si limita Indicare Terzo porto Più tariffa Di raccomanda Più Sovratassa Di raccomandazione Più porto aereo Per Ci si limita Indicare quello Al limite Se non è leggibile La data Se non si riesce A leggere Perché magari La nulla È poco leggibile Però in quel caso Lì che dici tu Non è necessario Andare oltre a quello È necessario Andare oltre Come dicevo Quando L'elemento postale Coincide con L'elemento tematico Ok Grazie Qualcun altro? Michele? Fai i complimenti A Paolo Ovviamente Come portare Vasi a Samo Quindi Niente complimenti Paolo Due cose Due mie vecchie fisse Cioè Uno che Collezionare I francobolli Dovrebbe Sempre guardare Essenzialmente Ai francobolli E al loro uso Senza stare lì A fare dei distinguo Sottilissimi Per fare Regolamenti In più Commissioni In più Giurati in più Eccetera E l'altro È che E in ogni caso Una collezione Qualunque sia il suo Impianto Sia esso Tematico Di tradizionale Di stare postale Debbia raccontare Una storia E quindi usare Gli elementi I due elementi Che ho detto Cioè Il francobollo E il suo uso Poi forse In qualche caso Senza il francobollo Giusto l'uso Postale Di qualcosa Come tutte le lettere In franchisio Eccetera Usarle Per raccontare La propria storia Nel caso di Paolo La storia Delle ferrovie africane In qualche altro caso Non so La storia Dello sviluppo Di una serie In funzione Delle esigenze Tariffarie Di un periodo Di forte inflazione O quello che volete Insomma Raccontare la storia Usando sempre Questi due elementi Quindi Benvenuto Che finalmente La tematica Abbia superato La fase Del soggetto Che è stata Una specie Di palla al piede In cui Si voleva mostrare Il più possibile Quante più Francobolli Possibili Per farfalle O un'automobile O quello che volete E si è finita Che non raccontavano Nessuna storia Semplicemente Mostravano Una sfilza infinita Di cose Che erano sempre Le stesse E benvenuto Appunto Che la filetta De la tematica Adesso racconti storie Usando tutti questi elementi Che poi ci siano giurati Che magari Storcano un po' Il naso Questo va bene Con tutti i cambiamenti Quindi Tu sei giovane Quindi Hai il tempo Di vedere Quando ci saranno giurati Tutti orientati In un certo modo E l'altra cosa Invece Su cui volevo commentare È il fatto Dell'iniziativa in sé Che nasca Dal lavoro In comune Di due belle associazioni Questo mi riporta Indietro a 30 anni fa Quando le associazioni Nazionali Crearono un coordinamento Fra di esse Da cui poi Vende fuori Un sacco di attività Di cose E sarebbe molto bello Che Ora avete incominciato In due E che qualche altra Associazione Di buona volontà Si unisca Per il prossimo ciclo Di conferenze Guarda Condivido tutto quello Che hai detto Tu sai che negli Stati Uniti Non esistono giurati Per classe Tutti giudicano Tutto Questo Li porta a fare Qualche corbelleria Ma anche ad avere Una certa apertura Mentale Per cui io Io penso che noi Dobbiamo arrivare Un po' di sforzo È stato fatto adesso Con la revisione Delle linee guide In corso Delle varie specializzazioni Io non devo dare Messaggi troppo diversi Sull'impostazione Di una collezione Che alla fine Come tu dicevi Attiene sempre un po' Allo stesso Diciamo Modalità diverse Di ordinare Lo stesso materiale Quindi io non posso Dare modalità di selezione Descrizione Impostazione Troppo diverse A seconda del tipo Di collezione È uno sforzo Che un po' per volta Si sta facendo Si è partiti Dagli antipodi Il cammino di avvicinamento Non sarà breve Però credo che Così come io Sento sempre di più L'ho sentito anche Marco citava I seminari Della posta L'history commission Della FIP Sento sempre più spesso Dire Collezionisti Di storia postale Anche molto avanzati Anche abbastanza Diciamo Senior Come età Che dire Dobbiamo Proprio nel principio Di raccontare la storia Una storia che dicevi tu Dobbiamo imparare Di più dalla tematica Come rendere Le nostre collezioni Più capaci Di raccontare una storia Quindi Questa commissione Di Diciamo Di buone pratiche Delle diversi ambiti Collezionistici Non può che essere Positiva Posso ricordare Una cosa Di tanti anni fa Vai Più di trent'anni fa Si cominciò a dire Che i collezionisti Tematici Dovevano diventare Un po' più Collezionisti Di storia postale I collezionisti Di storia postale Dovevano diventare Un po' più Tematici Che praticamente Le stesse cose Che avete detto voi Quindi Diciamo Il piacere È che dopo Tanti anni Si cominciano a vedere In parte In certi casi In modo anche notevole I risultati Di questo Sforzo Di mettere insieme Tutte e due Le cose Quindi Soltanto Una cosa Di compiacimento Come Vedere realizzate Delle cose Auspicate 25-30 anni fa Esattamente Vedo Tanti amici Tematici Collegati Ma non Non mi fanno Domande Carlo Dai almeno tu Sono Sono impauriti Beh Diciamo la verità Il tuo tipo Di collezione È molto 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 Particolare Nel senso Che ben si presta A questo tipo Di sforzo Notevole Che tu hai fatto Non tutte Le collezioni Tematiche Hanno quella Potenzialità Hai ragione Infatti Nella mia collezione Io posso Praticamente In ogni In ogni foglio Utilizzare Questo tipo Di materiale Il mio invito È di non Vederlo Dal punto di vista Quantitativo Cioè Magari In una collezione Che racconta La seconda guerra mondiale Ancora più Che nella mia In una collezione Che parla Di fiori Magari Molto di meno Molto Molto di meno Ma L'approccio Deve essere quello L'approccio Deve essere questo E chiacchierare Con gli amici Di collezionisti Di storia postale Almeno quello Come primo punto Di partenza Sono sicuro Vi darà l'occasione Di scoprire Tantissime Possibilità Di bagari Che poi portano Solo a inserire Cinque o sei pezzi In una collezione Ma Che hanno Come posso dire E spesso Come volevo dire Prima Vi consentono Di documentare Dei passaggi Su cui non c'è Nient'altro Perché questo è anche La cosa fondamentale Cioè la guerra Angloboera È una guerra Dimenticata Oggi Non è come Le guerre Dei libici Con gli italiani Su cui Gheddafi Ha fatto Franco Bolli Fino a che è stato In vita La guerra Angloboera È ricchissima Di storia postale Ma è poverissima Di documentazione Tematica successiva E nulla c'è Sulla parte Ferroviaria Per cui uno Dovrebbe quasi Trascurarla Se dovesse Parlarmi Nella mia collezione Senza utilizzare Questo materiale Gli incidenti Ferroviari Non è che uno Volentieri Rievoca Gli incidenti Ferroviari Ci sono alcuni Casi Di atti Di eroismo Ci sono Franco Bolli Di alcuni Del Cile Di Cuba Che ricordano Degli eventi Tragici Di questa natura Ma La maggioranza Se io In un paese In Africa Ad esempio C'è un solo Franco Bollo Che rappresenta Un incidente Ferroviario E c'è un intero Postale del Congo Berga Che rafficura Un treno Che deraglia Se io Dovessi Limitarmi A questi due Pezzi Non riuscirei Neanche A fare Un foglio Per cui Questi pezzi Vi aiutano Ad espandere Proprio L'aspetto Tematico Della collezione Grazie Cosa C'è un messaggio Vedo in In chat Ok Ma Visto che sono Le dieci Se non ci sono Altre domande Potremmo anche Chiudere qui Ecco Forse dovremmo dire Marco Come renderemo Fruibili dopo O Agnello Le presentazioni Sì Diciamo che La presentazione Viene registrata E Nella giornata Di domani Apro Il canale YouTube E nella Successiva mail Del prossimo Del prossimo Evento Aggiungerò Un link Per Visualizzare Il video Il video Precedente In ogni caso Diciamo Riceverete qualche Indicazione Per Per poterli Visionare E poi Magari L'indicazione Della prossima Conferenza Ma Anielo E' tua Quindi Dilla tu Sì C'è forse una domanda Ancora Posso chiederti Una cosa Magari Se tu la riterai banale Ma Non rientra proprio Nella collezione Ma Mi ha Mi ha proprio Stupito Questa Questa collezione Qui Come ti è nata L'idea Di Interessarti E mettere su Una collezione Tematica Sulle ferrovie Africane Come è nata Questa Perché Diciamo così Poi bisogna Per preparare Una cosa del genere Oltre a trovare Il materiale Che indubbiamente Qui ci sono 20 pezzi Non credo Se ne possano Trovare Aiosa Insomma Sono pezzi Che è difficile Trovare Ma poi Bisogna Prepararsi Con una documentazione E' enorme Allora Quando uno Sceglie una tematica Come questa È un'avventura Che fa paura A me farebbe paura Una cosa del genere Perché dico Ma dove parto Dove arrivo Non so niente È una cosa Che mi impressionerebbe Scusa Hai ragione No ma È un'ottima domanda Nella conferenza Che ho dato Recentemente All'Aispo Ho parlato di questo Quindi Lo posso riassumere Anche facilmente Allora Io Per mestiere Sono un ingegnere Mi occupo di ferrovie Anche per lavoro E Mi interessano le ferrovie Dal punto di vista storico E questo Spiega le ferrovie Quando ho iniziato A collezionare Franco Bolli Inizialmente Ho iniziato a collezionare Diciamo Soprattutto Perché Così nacque La mia prima collezione Franco Bolli E altro materiale In generale In generale Sulle ferrovie In particolare Su alcuni aspetti Ma diciamo In generale Sulle ferrovie E poi Gli ambulanti postali Soprattutto Quelli italiani A un certo punto Poi E quindi Accumulavo materiale Se vuoi Su un tema gigantesco No? Mostruoso Il tema ferrovie Nel suo complesso È quasi ingestibile In una collezione Di 120 fogli Quando ho avuto Un po' più di tempo Perché sono Diciamo Arrivato a Roma 19 anni fa Messo su casa e famiglia Avevo un po' più di tempo La sera Ho detto Ma io non posso andare avanti Così a collezionare Di tutto Sulle ferrovie Perché Anche se Non ho mai in realtà Smesso di farlo Però almeno A scopo di montare Una collezione Devo limitarmi Devo trovare Un argomento Più Più ristretto Siccome io amo Molto l'Africa E con mia moglie Abbiamo fatto Molti viaggi In Africa Avevo Adocchiato Quest'argomento Il primo anno Che ero a Roma Facemmo un viaggio In Namibia E Anzi A Suakomunt Che è il porto Della Namibia Sull'oceano Atlantico Che è una Curiosissima città Perché ha Un'architettura Diciamo Coloniale tedesca Rimasta Ben preservata Girando per la città A un certo punto Capito di fronte A un negozio di filateria Considerate che in tutta l'Africa Non so se ci sono dieci negozi di filateria Ce ne sono un paio in Marocco Uno ad Algeri Qualcuno al Cairo E forse qualcuno in più Forse qualcuno in più di dieci Perché in Sudafrica Ce n'è qualcuno in più Però Mai più pensavo In quel posto lì Di trovare un negozio di filateria In quella vetrina C'erano tutti i francobolli La Namibia Non era indipendente Da molti anni Della Namibia E c'erano due o tre pezzi Che non erano francobolli Guardando meglio Vidi una cartolina di posta militare Dell'epoca coloniale tedesca Mandata da un battaglione ferroviario Poco tempo dopo Andando a Londra Comprai il mio primo ambulante postale Del Mozambico E pensai Ma se facessi Se mettessi insieme Questi due interessi E provassi a farla Sulle ferrovie africane E quindi Ho deciso Di dedicarmi a questo Ci ho messo però A fare la prima esposizione Da quella data Che era il 2001 Al 2011 Quindi insomma Prima di riuscire Poi a mettere insieme Il materiale Per fare una collezione Ci ho messo dieci anni Però così è nata La scelta dell'argomento Complimenti Molto interessante Anche la spiegazione Di come sei arrivato lì Adesso che l'hai detto È chiaro Si capisce bene Perfettamente Grazie comunque Complimenti Perché è veramente Un gran lavoro Grazie anche della domanda Molto interessante Ma è nata prima l'amore Per la filatelia O per le ferrovie Per la storia delle ferrovie Guarda Quasi contemporaneo Nel senso che Io ho iniziato Forse prima della filatelia Perché ho iniziato Quando facevo elementari Però Già quando facevo le media Ho deciso che mi sarei Occupato di trasporti Per lavoro Quindi Sono abbastanza Infatti La mia prima collezione Era sui trasporti urbani Tram Metropolitane Autobus Quella fu la mia Prima raccolta Bello Grazie Grazie Allora forse Daniello Annuncia tu il prossimo Allora Ci vediamo Venerdì prossimo Con Seref Che ci illustrerà Una bella collezione Sugli usi Della serie Monumenti distrutti Di Repubblica Sicilia Ecco una serie Che tra l'altro Può avere moltissimi usi Tematici Tra l'altro Quindi incoraggio Anche tutti i tematici A partecipare Bene Grazie Grazie a tutti Allora Grazie 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 Ciao